Sei pronta? Prontissimo Ciao amici benvenuti in questo nuovo video Oggi sono qui con la mia amica Giulia Peculiar in arte Pecu Ciao E come avrete detto nel titolo oggi siamo di nuovo insieme perché lei andrà a truccarmi Che sono i video che io adoro perché non faccio nulla Però con un twist tipo challenge per metterla in difficoltà Utilizzerà soltanto i miei prodotti bocciati Grazie Prego Se vi piace l'idea lasciate un like così magari in futuro la rifacciamo per la gioia di Giulia E vi spiegherò poi perché i miei prodotti sono bocciati E cercheremo di trovare una soluzione per farli funzionare Con tutta la sua sapienza e cultura Lei cercherà di risistemarli e rendere la base e il make up flawless Così magari può essere anche utile Come salvare dei prodotti che non vi piacciono Esatto Via Dov'è l'elastico? Ah ma si devi togliere quel zuppo Allora come primo prodotto partiamo dalle sopracciglia E se non lo sapete lo sapete ve lo dico io Bocciatissimo questo prodotto di Refai Quello con Per le sopracciglia Così così perché non mi piace perché mi fa i residui e lo trovo scomodo da lavorare Beh ci sta Allora io in realtà non l'ho mai provato quindi adesso vediamo un attimo come posso farlo funzionare Sicuramente io direi di metterlo prima della base perché secondo me si rischia che vi rovina il fondotinta Infatti lo vedo che è bello biancastro Ahimè Però secondo me se si lavora un attimo potrebbe funzionare Fai fai guarda È il tuo compito di oggi Bene Io cerco di guardare dello specchiettino come sempre E secondo me facendo un po' così Ok quindi tu ne hai messo meno E tolgo un po' il residuo E l'hai tolto con le dita ok Sì perché così magari lo spingi anche un po' su E poi ha anche quel pettine maledetto dentro il tappo Dentro il tappo c'è una maledizione Tu riavvita questo E tira No 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 Riavvita e tira Stappa come ronco Oddio Ma vabbè E poi è super sporco Cioè Non dico niente Non lo so Forse non lo voglio usare questo Ecco un trick potrebbe essere Non utilizzare il pennello sporco Barra il pennello in dotazione Sì non mi fa impazzire Perché vedo che Cioè aderisce per modo di dire Vedi Però posso dire che Se lo usate così Cioè è utilizzabile Cioè se ne mettete troppo Chiaramente troppo bianco Lascia troppi residui Sicuramente da utilizzare Assolutamente prima del fondo In questo modo non rischiate Se sentite i cani russare in sottofondo Stanno russando Nel sottofondo È così eh Facts Come palette bocciato Utilizziamo la Cutie Nude Questa qua di Nabla Che sapete a me non piace Perché io sono Uno che Gli opachi sono opachi Questi qua sono un po' latex Un po' morbidi Sì sì sono proprio latex Esatto E quindi Sono una texture particolare Ma in realtà Secondo me utilizzata Con le giuste accortezze È molto bello E siamo qui per questo Anche perché Giulia sul mio canale Ha sempre fatto look colorati Quindi volete fare Oggi vi daremo un soft glam Che sapete Ah io adoro Puro Allora Per utilizzare Una palette di questo genere Serve un primer Siliconico Che secondo me È l'errore tipo numero uno Perché essendo così Cioè hanno fatica Ad attaccarsi Normalmente Perché se è una texture particolare Serve un primer Proprio appiccicoso Ok Quindi non vanno bene Correttori Cosa di questo genere Chiudi l'occhio Quindi usiamo il primer potion Ovviamente io sto usando I prodotti di Luca Quindi sto andando direttamente Con i scopi Sì sì sono miei quindi Quindi usiamo il primer potion E lo vado proprio a stendere Col dito Molto semplicemente Non dovete fare niente di Sì perché il primer potion Non è tipo come il P.Lewis Che lo devi lavorare Bene 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 Sì poi è anche trasparente Questo Però vabbè Ovviamente Un po' dovete sfumarlo Perché Ah beh certo Però a parte che è molto bello Perché è proprio Va un po' a idratare La palpebra Questo qua anti-age Sì vi faccio sempre Tu lo usi Allora diciamo che Lo sto destinando Di più ai contenuti Su look fantastico Oppure quando faccio qualcosa Di dedicato a Look nude Con palpebra Mediamente secca Oage Perché è più utile Se no io di base Amo Ah cacchio Quello di Nars No dico da usare Come primer Ah sì Eh vabbè Se no è un'alternativa Anche quello di Nars È lo Smashproof Che è il mio preferito Io penso che continuerò A parlare così Con gli occhi chiusi Deve essere una cosa Molto simpatica Sì tra l'altro Spoiler ho già un altro Bocciato Che è questo qui di Becca Che praticamente È un correttore Molto idratato Per questo non ti piace Perché è proprio tipo Mi cola tipo Beh io lo uso In alternativa Per andare a schiarire Questa parte qui Ecco vedi Questo top È un altro utilizzo Del prodotto Non ci avevo mai pensato Perché ovviamente Essendo che non va Non mi copre Tipo venuzzo Eccetera Io vado un pochino Nei contorni Perché Sì perché Cioè tipo Io quando faccio Il look nude Uso una base Uguale al mio incarnato Perché si sfuma Tipo meglio Ecco qua Russano in un modo In raga Le delle locomotive A vapore Ne metto proprio Un pizzichino Perché anche di questo prodotto Secondo me Ne va usato proprio poco Per far sì che Sia decente Molto bene Altra cosa Sicuramente Considerei di abbinare Questa palette A una matita scura Ok Perché chiaramente Essendo un po' più brillante Nei toni Non è proprio semplicissimo Ok Io di base Metto anche un pizzichino Della QP04 Che comunque è un nero Sì quindi Io ho qualcosa di rinforzo A livello di matite Ok Esatto E lo andiamo a sfumare Un pochettino Apri un po' l'occhio Essendo poi che Luca Ha l'occhio incappucciato Vi conviene Se in generale Avete l'occhio incappucciato Di lavorare un po' Il make up A occhio aperto Sì così ci sono già Le proporzioni Con l'occhio Così vedete già Tipo dove dovete arrivare Cioè in questo caso Infatti salgo un po' di più Chiudi Che gioia Che non devo fare niente Allora Altra cosa importante Per questa palette Io vi consiglio assolutamente Di partire con i colori più scuri Che magari non è una cosa Che uno fa sempre Perché così aderiscono meglio Alla palpebra E usare pennelli piatti Se volete che Ah piatti Sì Io parto da questo qua Più scuro Quindi usavo tipo piccolino Ma rounded Ah no E lo presso Direttamente sopra Quindi questo ovviamente È più o meno nero Diciamo nero Appunto il lattice Vabbè comunque deve imitare La texture del lattice Infatti a me tipo Questa palette piace Perché Cioè dipende dal tipo Di look che vuoi Chiaramente se vuoi un look Super opaco Non ha senso Ovviamente sì Durerà quindi anche di più Applicato sopra A cupid zero Eh sì Poi sotto c'è anche il primer Perfetto Quindi lo porto Verso l'alto E in realtà Una volta che imparate Se volete chiaramente Utilizzare Questa palettina qua Cioè è bellissimo Perché a me Gli shimmer di questa palette Piacciono un sacco Sono le altre tonalità Che Non la usi Per questa formula Ho capito Cioè faccio fatica A maneggiarla E di conseguenza Farà durare Ok Poi con un pennellino Più piccolo Prendo questo colore qui Con questo pennellino Batto un pochino L'eccesso E anziché Strisciarlo Tipo lo tampono Ok Comunque un pochino Di fallout c'è Quindi se fate l'occhio Prima È meglio In generale Faccio sempre prima Quindi Saresti già posto Sì Cioè non ho proprio L'abitudine Anche perché io poi Col fondo del correttore E pulisco a volte Eh sì esatto Esatto Sì sì Apri Ok Fatto Però vedete che Si sfumano stra bene Tra di loro Cioè Secondo me Let me Check Eh sì cavolo Poi con un altro pennellino Prendo questo colore Più chiaro Latex nude Con questo pennellino Qui di Nabla Ma quel colore È bellissimo Infatti rosico male Perché è troppo bello E questo lo metto Più nella parte In interna Perché voglio Che l'occhio Sia abbastanza aperto Non troppo chiuso Top Io sì ma Io odio Cioè ultimamente Sto proprio facendo Un fioretto Con me stesso Perché tu metti Sempre lo scopo Porca O comunque anche se è nude Lo carico un sacco Fino vicino al naso E non voglio Cioè Ti viene proprio in auto Sì sì mi odio Ok Poi sfumo anche un pochino Tutto questo bordo Con questo colore Perché è un po' più chiaro Quindi mi va a smorzare Da quant'è che mi trucchi tu Proprio in anni In anni Questo sto arrivando al nono anno C'è Mentre io giocavo con i pochi No scherzo Non è così grande Ma che ho iniziato prestissimo Sì tu un sacco Mamma mia Quando sai quello che vuoi fare È più Ed è una gran fortuna quella Sì Poi andiamo a utilizzare gli shimmer Che vabbè a Luca comunque piacciono Quindi diciamo Non c'è una spiegazione in particolare Sicuramente se usate sotto un primer O sotto una base grassa Scriveranno di più Questo è poco ma sicuro Sai che secondo me Ci sta questo colore qua Sto usando il colore Seduce Seducer Seducer Che è bellissimo C'è uno dei miei colori preferiti Tra l'altro sai che questa palette Penso che sia proprio per il motivo dei latex Ogni volta che ne parlo Perché vabbè a prescindere lo sapete Comunque non è che ci può piacere tutto di tutto Ma certo Comunque è un botto di persone Fanno fatica sai Eh ma perché Secondo me Non ci sono abbastanza magari video Dove persone spiegano come si utilizzano Secondo me la comunicazione Poteva essere veicolata proprio a livello istruttorio Su questo Cioè io l'ho fatto ai tempi dei video Però chiaramente è uscito ormai tanto tempo fa Quindi se uno la prende adesso Magari non trova dei video Infatti questa qua è quella che è uscita dal calendario dell'avvento Proprio perché ho detto uniamo le due cose Visto che ok è un'uscita vecchia però è attuale col calendario Sì sì No questo shimmer qua è pazzesco Ma infatti io rosicavo male per il shimmer Ti dico Quelle cutie sono pazzesche Quanto ho di truccare il mio occhio? No Qual è la forma di occhio che per te è più difficile da truccare? Contando che non ci sono occhi sbagliati Sì sì quello molto molto sporgente Tondeggiante Sì l'occhio più sporgente quindi che è molto grande Tondeggiante E quindi la palpebra quasi gonfia Ok sì Quell'occhio è molto difficile da truccare Perché comunque di solito chi ha un occhio così Vuole una cosa comunque più allungata Che è giusto Cioè il correttivo Sì sì correttiva È giusto Però a volte c'è il rischio di farlo sembrare tanto Too much Ok Cioè che a meno che non fai tipo uno smoky Fai fatica Quindi cioè quello è un po' più difficile Però in generale Cioè secondo me Puoi fare un bel make up su qualsiasi occhio Basta appunto utilizzare le tecniche giuste È vero Quello che sto facendo Sto sfumando leggermente verso la piega Però non voglio un effetto Tipo io ho notato che tu fai molto Sì Netto A me non fai Top No 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 Top Ma è giusto che facciamo così Your rules Perché così è più bello Mamma che fai i colori che ho sto paletto Ok Riprendo un pochino di quello più scuro Così andrò a sfumarli insieme A questo shimmer qua Però come vedete con i pennelli piatti Sono molto più facile da utilizzare Assurdo Io non avrei mai pensato di usare i pennelli piatti Ma perché? Non lo so perché il pennello piatto lo vedo tipo come Shimmer O per pulire Sai perché secondo me anche questa cosa? Perché online spesso si trovano persone che non sono proprio mega parties Che per l'amor di Dio A molte persone tipo tu ti sai truccare da Dio lo stesso Però non hanno magari queste cose Eh sì perché sono cose proprio nozioni queste Esatto È normale Comunque non a caso le persone fanno percorsi pagando per apprendere Certo Certo Perché a volte sembra un po' vecchio stile sfumare quei pennelli Ma è vero sai? Perché poi siamo comunque un botto bombardati dai social e dalle nuove tendenze Quindi Sì perché se c'è scritto questo è un pennello a sfumatura Magari pensa che può usare solo quello per sfumare Invece ci sono diverse cose che potrebbe usare Che bello Ok ora andiamo a fare l'altro occhio off camera e ci vediamo dopo per il resto Ok abbiamo terminato momentaneamente il trucco occhi che poi Giulia andrà a ultimare più avanti Ora passiamo alla base e come bocciatone se avete visto i video Quello di Patrick Ta Il nuovo fondotinta duo di Patrick Ta Che è questo giavaglio qui Che ha la fase in crema e poi direttamente la polvere con cui andrà a fissare il prodotto Ma anche la polvere è bocciata? Boh nel complesso non mi era piaciuto per niente Le volte in cui l'ho utilizzato non mi era piaciuto perché l'ho trovato texturizzante Nonostante sia grasso segnava Ok e la cifria? Penso che andassi a segnare ancora di più Ok texturizzante e grasso Sì è un po' grasso come prodotto Però lo trovi quasi Però tipo qua mi segnava Cioè era assurda come cosa Allora di solito per le texture così in crema bisogna utilizzare una crema molto ricca sotto Che immagino tu non hai fatto Ok Io sott'utilizzerei poi la magic cream che è molto ricca Che anche questo non ti piace No Ok quindi magari per miracolo Funzionerà Tu hai la mia completa fiducia Ottimo Considerate che la magic cream è proprio per una pelle bella secca Cioè nel senso Oppure una bella crema notte d'inverno Però è beh cioè a me non serve un c***o Però è proprio texture Sì sì Bella volgente Polpo usa Te ne metto anche un pochino Vada vada E tra l'altro raga è troppo bello avere un'amica mua Perché come sapete io non sono né certificato Né ho intenzione di fare il corso di mua per truccare gli altri Però è molto bello avere un parere di un pro tipo anche sulla texture della pelle Che mi hai detto così cosa cosa Cioè è stra sfizioso Io continuo a dirti che la tua pelle non è così grassa Che cessata Che poi sembra super marrone Allora io faccio così però perché non posso vedere quello schifino Lei sta prendendo col retro della pinzetta una porzione di fondo Perché così me lo posso lavorare un po' Perché l'altra cosa dei grassi è che Devi maneggiarli prima Sì Usiamo questo pennello di Viv Che costa solo 8000 euro Io adesso ne prendo un po' così lo lavoro bene E iniziamo a stenderlo Io guardo Picchiettando Comunque è assurdo Cioè ne hai preso molto meno In che senso? Che ti puoi Cioè sembra che ne hai preso pochissimo Bene sto prendendo Eh già fa meno a Texas Se mi fossi fatto la barba magari Però vabbè Ti piace questo pennello? Molto Però è moltissimo Al fondo ancora A parte che tipo io queste qua in crema non le uso mai Però c'è chi usa solo queste ad esempio Quindi lì va molto a gusto Cavolo Quasi bello Eh però c'è sta cosa della magic cream Non c'è Vabbè ma No ovvio Ma figurati ti vado a prendere quella Ma non ti vedi Cioè ovviamente non ti vedi neanche No Poi anche la cosa Qua sul naso non mi piace Qua l'altra cosa è che Ecco Qua questo era il punto di Che non ti vedi Sì Girati verso di me Sì un po' a segnale comunque Vedi Però forse magari ho alleggerito un pochino l'effetto Non so Molto di meno Sì Sì qua c'è ancora tipo un po' di squametta Ma molto di meno Ok Sicuramente Ha inciso un sacco la crema Secondo me E che ne hai preso poco E l'hai lavorato prima Perché io tipo l'ho preso Eh no Non puoi con le creme Non si può Allora passiamo al correttore E le ho dato come bocciato Il Good Apple Concealer di KVD Perché su di me è un po' troppo asciuttino E poco coprente Rispetto a come viene clemizzato E poi anche questo qua Correttivo Rebecca Perché su di me è troppo troppo Grasso Idratante e cola Allora Utilizzo Prima questo qua Allora secondo me il problema di questo È che magari uno ne applica troppo Ne va applicato pochissimo Appunto essendo così Grasso diciamo Rischi chiaramente che cola Quindi io lo stempero molto E ne applico proprio un pelo Quello che però mi piace di questo È che ho fatto tonalizzare un po' l'occhiaia Prima di applicare L'altro correttore Questo un po' più grassino E l'altro più secco Teoricamente insieme Dovrebbero fare Qualcosa di buono Qualcosa di meglio Rispetto all'applicazione solitaria Cioè vedete ne ho messo pochissimo Il colore piace anche a me di quello Il colore è bellissimo Perché ti spegne il grigio Totale E poi usiamo anche di questo Sempre una piccola quantità Con lo stesso pennello Sì sì Ok Anche il colore è un po' troppo giallo Questo per te C'hanno dei colori Orribili Quindi andiamo a mettere Un pochino anche questo qua Di KVD E preghiamo che funzioni Come ci sembra già così? Diverso? Non vedo un cabbo Sì Decisamente un botto A livello di idratica Di secchezza Allora come ci prendiamo ad usare Le faccio usare Questa qua di Glossier Perché nel bocciato Ci sta anche tutta l'aspettativa Acclimizzazione Blablabla Mi ha deluso Rispetto a quello che speravo Perché l'ho trovata Un po' troppo segnante E non l'ho vista Particolarmente sottile Su di me Me l'aspettavo Vedendo anche tutto il mood Di Glossier Super fresh Levigato ma sottile E poi le faccio usare Anche questa Che è la nuova Airbrush di Charlotte Tilbury Che è questa qua bianca Perché Uno mi piace molto di più l'altra Due Se si va in zone In maniera un po' più concentrata Tende un po' a fare il cast A sbiancare leggermente E non è minimamente Paragonabile all'altra Come Levigazione Ah sì? Cioè secondo me Questa è più asciutta Ok Comunque il make up Lo amo Sì? I colori sono bellissimi Io qui Praticamente Quello che andrei a fare È intanto togliere Chiaramente l'eccesso Qua sotto Voglio provare a utilizzare Questa qui di Charlotte Nel contorno occhi Perché visto che mi dici Che è sbianca Questa è diciamo L'unica zona Che io vorrei Un po' più chiara Tra le due Ovviamente se è una cipria Non è buona C'è poco che uno possa fare Certo Soprattutto stiamo usando Bocciati Soprabocciati Eh beh Sì è vero È sbianca Assolutamente sì Ecco Lo sto comunque usando Con un pennellino Così ho un po' di controllo Sulla quantità Non voglio esagerare Ecco tipo In quel caso Usare un pennello Anche da ombretto Infatti questo è un large Eyeshadow brush Piuttosto che magari Che so Precision di Nabla Che è già più grosso Ma sento proprio Che mi asciuga Non è un po' asciutta? No Un pochino Dai Ha visto di peggio Può essere importante Ok Poi utilizziamo l'altra Di Glossier Allora Io in realtà Resto il viso Lo fisso poco Quindi Andrò proprio A darci una Spolveratina Come si suol dire Guarda quanto è più scura Questa Sì Infatti quasi quasi Conviene un po' Quella è troppo bianca Vabbè se vuoi l'effetto Illuminante Eh ma boia Questa non è assolutamente Traslucida Cosa c'è scritto Qui dietro? Vabbè brightening Si sta arrabbiando C'è scritto Fair medium Sì se lo uso una medium Ma ti rendi conto? Cioè se la uso io Ciao Già È super bianca Un po' più scura Secondo me Io devo dire Quelle per fare Sto lavoro di illuminare Le più carine A livello di colore Sono quelle di Dragon Beauty Che all'inizio Non mi piacevano Poi ho imparato a gestirle E effettivamente Danno quell'effetto Illuminato Illuminato Ma correttivo Allora Devo dire che Ora mi ha fatto tipo Il bronzing Un'infarinatura Di blush in polvere Giusto per Darmi un po' Di encefalogramma Attivo E stava notando anche lei Che la cipra è Sbianca Sì quella di Charlotte Sbiancante Non mi è piaciuta per niente Però c'è l'abbiamo un po' Fatta funzionare Ma diciamo che Secondo me non è molto salvato Non era neanche fissante Eh quello è il problema Cioè che comunque Ne devi mettere tanta Per fissare bene Ma sbianca troppo Forse potrebbe andare bene Per chi fa fatica Con le ciprie Tipo magari Che compra quella più chiara Ma è troppo scura Ah esatto Per bilanciare Quindi forse Per chi è molto chiaro Potrebbe funzionare Adesso Ricordate Questa bellissima base Ok Che comunque Nonostante le difficoltà L'ha fatta venire su Molto molto bene Perché ora andiamo a usare Un prodotto bocciato Della collezione Maleducata Di Mulac Con Achille Lauro Che è il pH reagente Quei soliti prodotti Tipo come espresso Che metti E cambia colore Spoiler A me non dispiace Questo prodotto Quindi vediamo come No a me non piace Come tutti i prodotti Di questa categoria Prescindere In generale Sì esatto Allù 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 Già sta reagendo Sul mio dito Allora Comunque lo spalma Poco prodotto Pochissimo Quello è il trucco Con questi prodotti In generale Anche perché Lei è coraggiosa Dopo le polveri Ma sai che è più bello Secondo me così Top Io sai che mi fido Queste punte Delle dita congelate Così ti faccio Un effetto rinfrescante No Senti come fa Allora Tu sei soddisfatta Così vediamo A me piace Beh super delicato Eh ma bisogna metterne poco Non puoi mettere quello Cazzuola Ora mi picchio Però vedi Tamponato così Ti dà quello Allora sì Messo così ci sta Cioè veramente poco Stemperato Prima Chiaro non è per forza Il tuo prodotto della vita Però Puoi trovare un modo Così l'ha fatto funzionare Eh non è neanche appiccicoso No Però chiaramente non è Cioè tipo Non andrei a baciare No certo Però non è una roba che Però io l'avevo già usato Un'altra volta Secondo me tu l'hai usato prima Delle polveri Può essere Io l'ho usato Forse in video prima E poi per i cacchi miei dopo Ok Secondo me è meglio dopo Sì ok Eccoci qua dopo anni In realtà No scherzo In realtà è andata a mettermi Le ciglia finte Che non sono assolutamente Sì Le ciglia finte I ciuffetti Che non sono assolutamente Bocciati Quelli di Nikki Makeup In collab con Sweet Lashes Giusto Adesso andiamo con il fixer Io ho bocciato Questo qua di MAC Perché non mi piace lo spruzzo Perché fa le gocce In plus Questo qui Ha i glitterini Che grazie infatti Prego Ho un po' paura Però quello che ho pensato di fare È me lo spruzzo un po' Proprio nella mano In questa maniera Poi con il pennello da fondo Lo preleva Lo prelevo E lo passo un po' così Io avrei fatto con la blender Vabbè io non uso la blender Non si finisce mai di imparare Però sì Diciamo che Se potessi scegliere Non la utilizzerei Ok Perché preferisco anche una cosa Che posso spruzzare Con un po' più di controllo Però questo è un modo alternativo Se E noi siamo qui apposta Tu sei qui apposta Passiamo ai labbra Raga E come labbra Porta tutto il bagaglio Quello rosa Come bocciati Ma che bello però Sì Stupendo Io le ho dato Questi qua Di Kaleidos Che è un brand Che io amo Tantissimo Che tu mi hai fatto scoprire Tra l'altro Un botto di cose Mi hai fatto scoprire tu Questi qua però Non mi piacciono Ok Perché Perché Boh mi sembra tipo di mettermi A parte che la consistenza mussosa Non mi piace Ok In sesura sono un po' disomogenee Cioè ci devo stare troppo a lavorarli Ok E col fatto che La mousse appare molto siliconica Quando sfreghi le labbra Mi sembra instabile la formula Cioè ho paura che se ne va a casa Allora Per salvare un po' Questa formula Io comunque considero di usare una matita labbra Perché Diciamo Il fatto che magari Non è super omogeneo Con questo ti aiuta Io mi sto un po' parando Il scederino Utilizzando un colore nude Quelli più scuri ovviamente Sono un po' più difficili Quindi intanto Facciamo tutto il contorno Delle labbra Utilizzo la 5 di Nabla In realtà è un po' caldo E prima che si fissa Lo sfumo un pochino Con un pennellino Verso l'interno delle labbra Tu non lo fai mai questo? No D'oreo non lo so Basta Mi sta rovinando tutto Questa barbetta qui Oh Allora Io lo applico però Mettendolo sulla mano Perché così posso regolare Come sempre Come tutto Esatto Un po' meglio Questa texture È sicuramente una texture Molto particolare Secondo me O ti piace O non ti piace Perché è bellissimo Tipo l'effetto vellutato Che è super opaco Come potete vedere Cioè Non sembra neanche Che si deve asciugare Come esce già opaco Esatto Vabbè Io poi le applicherei Proprio in questo modo Quindi faccio vedere Esattamente Come le metterei Sai quella è poi la paraculata Di sto colore Che è similato colore Di lastre Eccoci Finalmente Abbiamo terminato il video Giulia secondo me è stata bravissima Perché Ricordiamo che Questa è una full face Con prodotti Che io ho bocciato Che per un motivo Per l'altro Su di me non funzionavano E penso che tu sia stata Come sempre Super super brava Grazie Vediamo a fare un recap Tipo di quello che anche io boccierei Dai vai Sentiamo Allora Io dico palette Per me non è assolutamente bocciata Semplicemente bisogna utilizzarla Con alcune accortezze Poi non so Anche tu Ora ti sei Sì effettivamente Però sta tecnica Molto molto meglio Per il fondotinta Non mi piace Si può utilizzare Però secondo me Va bene Solo su una pelle Che è già praticamente Senza nessun tipo di texture Esatto Le ciprie Non le odio Non le utilizzerei Ok I correttori invece Non mi sono dispiaciuti Così tanto Ok Sinceramente Anche lì dipende come li usi Secondo me Come prepari la pelle PH di quello di Mulac A me non dispiace Però anche lì Dipende come lo usi E quello di Refai Ti dico Non è così Sai che è vero Non è così male Forse secondo me Il più eclatante Rispetto alla brutta esperienza Che ho avuto io È stato proprio Lui della palette Ok Il prodotto labbra Secondo me va a gusto Cioè più che un prodotto Secondo me Che non funziona Cioè funziona Ma semplicemente Non è un rossetto liquido classico Quindi non aspettatevi quello Però secondo me Se vi piace un colore Utilizzato con la matita Cioè l'effetto è molto bello Sì è molto bello Sì Secondo me Lo sento un po' Lo senti opaco Un po' secco Beh Vabbè ci sta È opaco Non mi era neanche super idratato Possiamo dirlo Questo anche è vero Bene Del resto direi Basta Abbiamo provato solo questo Giusto Bene Grazie infinito a Giulia Mi raccomando Se il video vi è piaciuto E se il risultato vi è piaciuto Lasciate un commentino Così capiamo anche Un po' come l'avete vissuto a voi E secondo voi Cosa è stato salvato E cosa no Niente Noi vi salutiamo E grazie per aver guardato questo video Ciao